Ecco qua, vediamo come invitare i nostri amici sul gruppo Magic Cooker e le ricette del cuore. Andare sul gruppo e selezionare il tasto Invita. A questo punto si aprirà tutta la lista Facebook dei nostri amici. Cosa bisogna fare? Selezionare le persone da invitare cliccando sui tasti Invita. Ricordiamo di chiamare, contattare, messaggiare queste persone e avvisarli che sono stati invitati in un gruppo meraviglioso di ricette. In questo modo riusciranno a vedere il link e ad accettare il vostro invito. I nostri amministratori riusciranno a vedere che siete stati proprio voi ad invitarli. Bene, una volta invitati i nostri amici sul gruppo non resta altro che invitarli a vedere una diretta. Ogni volta che ci sarà una diretta noi creeremo una locandina. Quindi scorriamo dal gruppo Magic Cooker, scorriamo e cerchiamo la locandina della diretta e clicchiamo sulla scritta Parteciperò. A questo punto clicchiamo sul titolo e arriveremo in questa pagina dove ci sarà una bustina col tasto Invita. Ed ecco qua tutti i nostri amici che sono già sul gruppo Magic Cooker e ricette del cuore e qui li invitiamo tutti, 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 tutti senza fermarci mai. Tutti dovranno essere invitati a quel punto, durante la diretta riceveranno la notifica che la diretta è in onda. Buon lavoro!